Tutti abbiamo cose che amiamo odiare. Questa immagine ne è un esempio per tutto il Roberto Bigano Group. Tra i maiali questa è il porcello, ingorda, sporca e insolente. La storia andò così. Quando Davide stava lavorando sulla prima edizione del video didattico, si imbatte in questo splendido scatto. Si tratta della Skyline di Seattle ed è di Roberto. Applicò alce con un raggio 200 e ottenne questo. Un risultato rispettabile, direi. Ma quello che stava cercando di fare era mettere in evidenza il dettaglio nei grattacieli e sapeva di avere bisogno di un raggio più piccolo. Quindi usò alce a raggio 20 e ottenne questo. Intendo questo. Abbiamo coniato un'espressione per questa cosa. Un supermercato di aloni la chiamiamo. La ragione? Potete prendervela con il cielo. Queste costruzioni non si chiamano grattacieli per sbaglio. Tagliano letteralmente il cielo in due visivamente. All'interfaccia si formano gli aloni per ragioni legate al contrasto. Sarebbe ridicolo nascondere il problema. C'è, non si discute. Qualsiasi altro intervento locale genererebbe aloni e sappiamo che alce è più gentile di altri metodi. Ma quando ci sono? Ci sono. Alcuni tra gli scatti che abbiamo visto erano amanti leggermente infedeli. Bene, benvenuti dalla messalina di turno. Come se non bastasse questo problema è estremamente difficile da risolvere. Nessun canale né in RGB né in LAB è utile per creare una maschera in questo caso. Perché non c'è mai un contrasto enorme né nella luminosità né nel colore. Quindi Davide ci passò lo scatto pronunciando la famosa frase Seattle abbiamo un problema. Quando sei alla disperazione un po' di pensiero laterale può portarti lontano. Io pensai sì, questo è un problema difficilissimo da risolvere in uno spazio colore di tre lettere, ma non in uno che ne ha quattro. Quindi quello che feci fu menu visualizza, avvertimento gamma. E non accade nulla, così come nulla sta accadendo ora. Che significa? Beh, significa che questa immagine non contiene nessun colore che CMYK non sia in grado di maneggiare. In termini tecnici si direbbe che questa immagine non contiene nessun colore al di fuori del gamut CMYK. Per metterla giù semplice, convertite in CMYK e il colore non cambierà. Quale CMYK? Ce ne sono molti dopo tutto. Nel mio caso la varietà stabilita dalle mie impostazioni colore, un profilo ICC tipicamente europeo che per gli amici si chiama Fogra39. Ma in pratica non credo che possiate avere problemi in qualsiasi spazio CMYK ragionevole. Se aveste blu vivaci, verdi vivaci, colori pastello, in quel caso sarebbe un altro paio di maniche. Ma nessun avvertimento gamma significa una cosa semplice che potete convertire in CMYK e nessuno se ne accorgerà. Ora, se siete dei fotografi, probabilmente considerate la mia affermazione come una bestemmia. Voglio farvi vedere una volta per tutte che su immagini come questa non si pone alcun problema. Quello che devo fare è portare il livello alce in CMYK. Proviamo. Lo seleziono e duplico il livello. Siamo in Adobe RGB, quindi creeremo un nuovo documento. Selezionate nuovo come destinazione, chiamatelo alce duplicato e date ok. Ora, duplicate questo file. Convertitelo in CMYK in maniera che venga usato il vostro profilo di default e poi di nuovo in RGB. Il mio profilo RGB di default è Adobe RGB, quindi sarò in pratica al punto di partenza. Rinominiamo questo livello alce RCR, ovvero RGB in CMYK in RGB. Ora, duplico il livello. Seleziono alce duplicato come destinazione e ottengo questo. Un file con due livelli. Sotto l'originale. Sopra, quello convertito due volte. Ora, modalità diffusione, differenza. Sapete già cosa dovrebbe succedere. Qualsiasi differenza deve diventare evidente. E personalmente io vedo nero, ma sì, ammetto che potrebbe esserci una differenza molto piccola che io non sono in grado di vedere. Allora esploro l'immagine con il mouse e tengo d'occhio la palette di info. È vero, qua e là ci sono dei cambiamenti. Ammontano a un punto in RGB. Però la parte destra della mia info palette è impostata in modo da leggere i colori alla B e ciò che ottengo vale 0, 0 e 0 nella L, nella A e nella B rispettivamente. Sapete cosa significa? Significa nero. Nero come il carbone. Notte senza stelle. Nero biblico. Significa nessuna differenza. Significa che la variazione indotta dal rumore del sensore della vostra fotocamera è molto più ampia di così. Quindi il mito che immagini come questa possano venire danneggiate da un passaggio in CMYK e ritorno è semplicemente privo di fondamento. Torniamo quindi al file originale. Non abbiate paura e fatelo. Menu immagine. Metodo. CMYK. Alla richiesta di Photoshop rispondete che non volete creare un livello unico. Teneteli così. L'immagine non cambia e neppure gli aloni. A questo punto cliccate sul livello alce 20 e aprite la finestra stile di livello. Vedete questi quattro quadratini spuntati uno per ciascun canale? Se sono attivi il canale corrispondente è attivo. In caso contrario è spento. Ora deselezionate cian, magenta e giallo. Questo significa in buona sostanza che solo il nero rimane attivo. Dove sono gli aloni? Spariti completamente. E tuttavia l'enfatizzazione di alce è ancora lì. Guardate. Senza alce, con alce 20. Di nuovo. Senza e con. È interessante. Ma cerchiamo di capire perché. Doppio clic sul livello di nuovo e recuperiamo i canali originali. Ovvero rendiamoli tutti attivi. Diamo un'occhiata a ciascuno di essi. Ora, questo è il cian? Aloni. Questo è il magenta? Aloni. Questo è il giallo? Aloni. Questo è il nero? Niente aloni. Questo è il potere del CMYK. Molto del contrasto migra dai canali del colore nel nero, quando convertite. Il nero è un canale molto speciale che il più delle volte contiene ciò che chiamiamo lo scheletro dell'immagine. Inoltre, di solito, è completamente bianco dovunque ci sia un colore appena saturo, come nel cielo. Per questa ragione è meno disposto ad accettare che si formino aloni rispetto a qualsiasi altro canale, perché è estremamente debole. Chi lavora nel settore prestampa conosce molto bene questo fatto. In CMYK il canale del nero è la prima scelta per la maschera di contrasto. Quindi, se spegniamo cian, magenta e giallo, abbiamo il meglio dei due mondi. L'enfatizzazione di alce e niente aloni. Ora, crea a livello unito un comando che conoscete già, o quando rientreremo in RGB gli aloni torneranno a farsi vivi, visto che tutti i canali si riattiveranno sulla via del ritorno. Ora, convertiamo in RGB. Tranquilli, è un'operazione sicura. Questo è ciò che avevamo prima di passare in CMYK e questo è ciò che abbiamo ora. E già che ci siamo, questo era l'originale. È vero, l'effetto è meno marcato nella versione senza aloni e questo è l'unico prezzo che dobbiamo pagare. Ma vi sfido a tirare fuori qualcosa di migliore su un'immagine così difficile. E certo, potete schermare e bruciare gli aloni con infinita pazienza, se volete. Buona fortuna e comunque sia, dimenticatevi dell'orologio. Questa tecnica è stata battezzata K-alce, ovvero alce sul canale nero, cioè K. Ricordatevi, funziona se non avete colori fuori gamut, altrimenti perderete qualcosa al momento della conversione. Questo può essere un fatto rilevante o meno e talvolta è perfino desiderabile. Però fate attenzione. In ogni caso ricordate, una conversione al giorno toglie gli aloni di torno.